Kairos è un'associazione locale che si occupa di integrazione e di sensibilizzazione sul tema dei migranti richiedenti asilo. È stato scelto questo nome, che è un nome greco, proprio perché qui siamo nella Magna Grecia. Kairos vuol dire momento giusto per fare le cose affinché tutte le cose vadano nel loro ordine.